Di Marostica, una scelta vincente, semplice, affidabile, competitiva. Domenica 20 aprile, Pasqua di Ressurrezione, è il centodecimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 255 al termine, il sole sorge alle 6.17 e tramonta alle 20.03, la luna si leva a mezzanotte e 40 e tramonta alle 10.12. Muore a Venezia, incontrata a Sanlio a 71 anni il pittore Giovanni Antonio Canal, detto il Canaletto. Cresciuta la scuola del padre, Bernardo, pittore e scenografo, si può dire non abbia avuto rivali nel campo della cosiddetta pittura dividuta, di cui fu caposcuola Venezia. Le sue opere, animate da un profondo senso dello spazio e di un assoluto rigore formale, si trovano quasi tutte all'estero. Le previsioni per domani. Moderata instabilità, con prevalenza di addensamenti nuvolosi rispetto a qualche possibile parziale schiarita. Precipitazioni sparse e intermittenti, anche a carattere di rovescio, con limite delle nevicate a circa 1.700-2.000 metri. Temperature per lo più stabili o con variazione di carattere locale.